Buonasera e benvenuti a tutti coloro che ci ascoltano sulle onde di B-Radio. Siamo in compagnia di Alessandro D'Abitom in Polonia e stiamo riproponendo, dopo un po' di tempo, dopo una piccola pausa, Euromeeting. Allora, ciao Alessandro. Ciao Franco, un saluto a tutti quelli che ci seguono e su Facebook e su YouTube. E allora, intanto che temperatura c'è lì in Polonia? Ma per ora stiamo bene, siamo sopra lo zero in questi giorni, quindi stiamo bene, addirittura 6 gradi, addirittura 6 gradi stasera. Guarda, per noi è gelo 6 gradi, insomma, quasi. E non sapete cos'è il gelo, quindi non lo sapevo neanch'io prima di venire qua. Temperatura media degli ultimi periodi? Era intorno allo zero, poco sotto lo zero, ci sono stati giorni, anche quando mio padre era qua, perché abbiamo fatto l'incontro, l'ultimo video, insomma, di Euromeeting. E' scesa anche intorno a meno 10, meno 12, meno 13, insomma, una vittima brutta. Sento freddo solo a sentire queste temperature, guarda, non siamo abituati, a parte una grande umidità, però fa freddo. No, umidità no, ti dirò, anzi è abbastanza secco, quindi non sempre si avverte, però meno 13 sono sempre meno 13. Per chi ha un cane, come noi, la questione è abbastanza traumatica. No, si fa complicato, si fa complicato, sì, immagino, immagino. Ma anzi, adesso comunque la questione del riscaldamento effettivamente è un tema, perché quando mi sono trasferito qua, che lavoravo a Cracovia, quindi andavo e tornavo, facevo 80 km all'andata e 80 km al ritorno, con l'auto, la sentivo, cioè il freddo si sentiva, a volte arrivava pure a meno 20. E vuoi o non vuoi, alle 5 di mattina ti devi mettere in auto e andare al lavoro, cioè, non c'è niente da fare. Certo, certo. Poi a pulire l'auto dalla neve, perché non puoi camminare con l'auto tutta imbiancata. Con il raschietto sul parabrezza, insomma. Esatto, esatto. Ho avuto qualche avventura del genere in tempi passati, in tempi passati. Senti, Alessandro, poco prima di andare in onda, avevamo discusso, insomma, dell'argomento di cui volevamo parlare questa sera, ed è quello della musica. Qui c'è Sanremo, che fra poco arriverà ed imperverserà su tutti i media, e quindi l'argomento nazionale diventerà quello della canzone. E mi incuriosiva, e credo che molti sono curiosi di sapere, la musica che si ascolta lì in Polonia, se arriva la musica italiana, che cosa va per la maggiore, quali sono gli artisti che si conoscono di più. Poi, tra l'altro, gli hai mandato anche una fotografia del vinile, questo vinile che sta ritornando. Questo sconosciuto. Questo sconosciuto. Questo mostro. Sì, no, allora, intanto l'impatto, i primi impatti con la musica polacca, non so come succede negli altri stati, magari forse l'Inghilterra, la Francia e la Spagna sono salvi da questi impatti forti, però magari negli altri paesi dell'est Europa, piuttosto che asiatici, tutti hanno vissuto un impatto molto forte con la musica o con il cinema, come raccontavamo l'altra volta. La musica, intanto, ci sono degli artisti veramente bravi e che sono apprezzabili anche da chi non parla la lingua, però in generale la lingua, essendo molto dura, è difficile riuscire a gustarsela quella musica, questa musica, perché io sono qua. Quindi ci sono determinati autori che riesci ad ascoltare perché riescono a rendertela piacevole nonostante tutto, e altri autori invece che, come per esempio il rapper, i trapper e tutta l'allegra schiera, che ti rendono l'ascolto molto pesante, ma anche a distanza di ormai, in 14 anni che abito qua, anche a distanza di 14 anni alcuni non riesco proprio ad ascoltarli, non ce la faccio proprio. Beh, però Alessandro, bisogna anche vedere un po' i tempi, perché ti posso dire che io qua in Italia c'è certa musica che faccio fatica a stare dietro, diciamola così, mentre per alcuni ragazzi ci sono artisti che spopolano, aspetta, non ricordo neanche alcuni nomi, perché sono così quasi sui generis, non voglio dire stravaganti, proprio faccio fatica anche a stare dietro, quindi immagino che tu, tra la musica polacca e le nuove lede, immagino che abbia avuto più difficoltà rispetto a quelle mie. Sì, 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 scusami se lo dico così, però sì, ho avuto difficoltà perché mentre appunto c'è una musica piacevole da ascoltare, c'è un'altra musica che fa difficoltà anche appunto nella tua lingua ad ascoltare. Sì, siamo passati dalla nostra musica elettronica degli anni 80-90, degli anni 2000, a una musica che è completamente delle nuove leve, ecco, da un certo punto di vista, che benvengano comunque queste nuove leve, almeno c'è un po' di varietà, e naturalmente non saremmo arrivati a questo punto senza le evoluzioni degli anni 70-60, 90-50, insomma, ogni periodo ha avuto le sue evoluzioni. Certo, noi ci stiamo, fra virgolette, ingrigendo un pochettino e quindi largo ai giovani. Sì, sì, quello, senza ombra di dubbio, insomma, poi non siamo noi a dover giudicare i gusti degli altri. No, e ti dicevo, quindi, qua ci sono alcuni autori che effettivamente sono apprezzabili, per esempio c'è un gruppo in particolare che a me piace molto, sono stato anche un paio di loro concerti, si chiamano Rastwatsh, che significa un, due, tre, come l'inizio, insomma, di un pezzo, ecco, che sono molto bravi perché non solo riescono a fare rime, e in polacco non è facile, ma hanno anche uno stile, riescono a cantare, e ovviamente la musica è molto originale e molto bella, però anche con le parole dentro, che sono difficili da pronunciare, loro riescono a rendertele semplici, come se fossero, come se parlare quel tipo di lingua, sia che questo gruppo, appunto, che mi piace molto, ma ce ne sono altri, insomma, che sono molto bravi, praticamente fanno una musica che ti rendono semplice, o comunque piacevole, l'ascolto di questa lingua che è molto difficile all'ascolto, cioè non è come la nostra lingua o lo spagnolo o il francese, quindi ti dà questa piacevolezza che, cioè riescono a rendere questa piacevolezza che altri purtroppo non riescono, ma che ovviamente vanno anche qua per la maggiore, perché chi capisce la lingua non gli interessa tanto la musicalità, ecco. Io ti posso dire che ho ascoltato canzoni della Polonia solo nell'Eurovision Song Contest, cioè solo in quell'occasione, e tra l'altro lì, forse, non so se in quelle occasioni, la canzone era in inglese o in polacco, adesso non riesco a ricordarlo, però ecco, non ho avuto modo di ascoltare mai, al di fuori dell'Eurovision Song Contest, cantanti polacchi. Questo perché, ovviamente, nell'Eurovision Song Contest si cerca di mandare, insomma, quello che può attirare di più l'attenzione, anche se, sinceramente, tante scelte di quelle fatte dalla commissione che deve decidere qua, non le ha capite nessuno, perché ci va gente che spesso non sa neanche cantare, insomma. Come l'ultima, appunto, l'ultima che ha partecipato all'Eurovision, è stata presa in giro, poverina, ha dovuto concludere la carriera, mi sa, perché è stata presa in giro sia per la canzone solamente in polacco, e sia per la versione che poi hanno fatto per l'Euro Song, che era in inglese, perché parlava un inglese pessimo, quindi è stata, poverina, è stata presa molto in giro. Ogni tanto, sì, ci va qualcuno di bravo, però è una rarità. Ecco, mettiamola così. Qui c'è Sanremo che viene in aiuto, perché all'Euro Song Contest partecipa solitamente il vincitore, la canzone vincitrice del festival, tranne qualche eccezione dove partecipa il secondo, il terzo, il quarto arrivato, a secondo degli impegni degli artisti. Ricordo, per esempio, un anno non hanno partecipato agli stadio, che avevano vinto il festival, e in quell'occasione adesso non ricordo chi aveva partecipato. Mi sembra Francesca Michelin. Forse Francesca Michelin, bravo, vedi, hai una memoria di ferro, bravissimo, bravissimo. E tra l'altro, bravissima, per carità, Francesca Michelin veramente brava, nulla da dire su di lei, anzi, una nuova cantante con veramente delle belle qualità vocali. Sì, 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 no, vabbè, ma l'Italia, obiettivamente, un anno c'è stato, ci sono stati Ermal Meta. Ermal Meta a me piace parecchio, secondo me ha una bella voce, ha dei bei testi, delle belle musiche, quindi meriterebbe molto più spazio di quello che ha. Ma lì, allora, scusami, la canzone, i cantanti e le canzoni che si ascoltano, vanno comunque quelle canzoni inglesi, quelle spinte, diciamo, dai discografici, come qui in Italia, o si ascolta musica un po' diversa? A proposito di questo, entriamo qua in un ambito proprio drammatico, a dir poco, quest'anno è stata una cosa incredibile il successo che ha avuto quella canzone, la Italo Disco, perché io sono venuto in Sicilia e la sentivo, questa Disco Paradise, Italo Disco, la sentivo ovunque, soprattutto Italo Disco. Al che, ad un certo punto, ho tornato in Polonia e ho detto, ah, finalmente rilasso le orecchie da questa canzone che non ne posso più, non che sia bella o brutta. è una canzone, è una canzonetta, va bene così, ma qua tutti pazzi per questa canzone, sono finito all'inferno, che pure qua... In versione sempre italiana oppure in versione inglese? No, no, in versione italiana, la versione inglese l'ho ascoltata, suggerita da qualcuno... Sì, sarei così, sarei io, ok? Ai tempi in cui c'era ancora la cortina di ferro, quindi ai tempi in cui il muro di Berlino era ancora su, qua facevano vedere, per lo più l'unico programma che passava, era il Festival di Sanremo, quindi tutta la musica di quegli anni, soprattutto quella degli anni Ottanta, che appunto il Festival di Sanremo aveva fatto il boom in quell'anno, perché forse è stato uno dei primi programmi in Eurovisione, se non vado errato, quel programma qua ha fatto il boom, e in quegli anni c'erano i vari Albano e Romina, ricchi e poveri, Drupi, Tozzi, Totocut, mamma mia, Totocutugno, come dimenticarlo, e tutti questi cantanti di quegli anni che vincevano il Festival, o che comunque facevano canzoni molto più orecchiabili rispetto alle varie Mia Martini, o altri autori di un certo peso, insomma, autori e cantanti di un certo peso, la Mannoia degli anni Ottanta, o Anna Oxa degli anni Ottanta, qua non sono state conosciute, per esempio. Non hanno attecchito, forse. Non hanno attecchito, no, perché comunque appunto facevano un altro tipo di musica, ecco. E tutte quelle canzoni invece più orecchiabili, più immediate, che contenevano all'interno una delle tre parole cuore, sole o amore, quelle hanno attecchito e ancora fanno successo. Tante volte, quando siamo a qualche festa, ancora oggi, che ormai mi conoscono qua, i nostri amici mi conoscono, sanno quali sono i miei gusti musicali, sanno che quella musica non mi piace, però come per farmi un piacere, dicono, tam, diamo, mettiamo questa canzone, Mamma Maria dei ricchi e poveri. Eh, mannaggia! Magari molti di quelli che ci ascoltano manco sanno che canzone è Mamma Maria dei ricchi e poveri, però noi sì, insomma, di una certa età. Oppure Felicità di Albano e Romina, quella spopola proprio, e per non parlare poi dell'italiano di Toto Putugno, quello proprio va per la maggiore. Va per la maggiore, va per la maggiore. E ascolta, ma vengono lì artisti italiani a fare dei concerti? Allora, sì, però adesso la questione è un po' anacquata dal fatto che su internet ormai riesce a recuperare tutto e quindi in base alle visualizzazioni poi vedi pure gli artisti che si spostano in base nel paese in cui fanno parecchie visualizzazioni. Ovviamente uno che spopola tanto al momento è Andrea Bocelli e nella serata di Capodanno c'è stato, non so in quale città, però in una delle piazze, insomma, in cui si organizzava il Capodanno in televisione c'è stato Matteo Bocelli, il figlio. Quindi anche lui comincia a rendere... Vabbè, dico, insomma, Andrea Bocelli, è comunque Andrea Bocelli. Infatti, dico, non sottolineiamo la canzone. Poi uno invece che ha fatto successo negli anni passati, che ogni tanto viene invitato in televisione qua, è Drupi, che forse non ti ricorda, no? Cioè, tuttora ancora si parla di Drupi? Sì, 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 ma a volte pure in televisione te lo vedi spuntare così, all'improvviso. Una cosa... E poi comunque no, ci sono anche... Ho visto il concerto... C'è stato il concerto di Zucchero un paio d'anni fa. E chi altri? Vabbè, adesso i Moneskin, o Moneskin, come si dovrebbe dire, che appunto fanno un concerto, c'è lo stadio pieno a Varsavia, mi sembra che è stato l'ultimo. Oppure Eros Ramazzotti, anche quello riempie gli stati. La sua musica si ascolta, quindi... Mengoni? Mengoni? No. No, sai che ti chiedo Mengoni, perché ho degli amici in Svizzera che sono stati ai concerti di Marco Mengoni e nell'ultimo periodo addirittura replicati questi concerti. Credo che in un anno addirittura, o due o tre volte, sono andati a vederlo in Svizzera, quindi pensavo che fosse un cantante che magari fosse apprezzato anche lì in Polonia. No, 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 nelle radio, forse l'anno scorso ha partecipato all'Euro Song Contest, mi sembra. Dopo quella partecipazione, sì, le radio hanno cominciato a mandare quella canzone, però non ha avuto lo stesso, la stessa eco che hanno avuto i Moneskin. Questo senza dubbio. I Moneskin ormai sono una band affermata qua come poi in tutto il mondo. Possiamo dire una band internazionale. Ma altri cantanti internazionali che vengono apprezzati lì, per esempio, così come qua, che posso dire qua in Italia, ci sono dei gruppi o dei cantanti che da parecchi anni che sono sempre in voga e poi naturalmente i vari, Rihanna piuttosto che la cantante Lady Gaga che ha origini qui, vicino, a Naso. Sì, sì, sì. E si vede anche, insomma, che la ragazza ha origini di Naso, insomma. E così, sì, no. Cosa è? Sono sempre gli stessi, probabilmente, perché se sono forti internazionalmente, immagino che anche in Polonia arriverà la loro musica. Sì, 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 quasi. Sì, ti dirò, io per esempio il primo concerto degli Jutsu, io sono un gran fan degli Jutsu, il primo concerto io l'ho visto qua, qua proprio vicino casa, tra l'altro, neanche a dieci minuti da qua. Il secondo poi me lo sono andato a vedere a Berlino perché non ne facevano già più concerti qua in Polonia. però, appunto, queste band internazionali, come d'altronde anche i cantanti, i vari, anche quelli nuovi, che so, Harry Style, piuttosto che Rihanna, come dicevi tu, Rihanna Grande, eccetera, eccetera. Questi qua vanno, vanno, sì. Sì, però c'è anche un, ho notato, tra l'altro ci sono parecchi miei amici che dall'Italia vengono qua a vedersi alcuni concerti, per quanto riguarda il rock, l'hard rock, o addirittura la musica metal, qua, diciamo che è una piazza un po' più frequentata rispetto all'Italia, forse anche perché rispetto all'Italia è più facile muoversi all'interno della Polonia perché, appunto, è, diciamo che più, non è per lungo, ecco, mettiamo, e lì è difficile anche muovere tutta la carovana di un concerto, di un concerto importante. Qua è già più facile, però ci sono tante band, anche, ultimamente avevo visto pure i Duran Duran addirittura, io non pensavo che ancora suonassero i Duran Duran. Sì, sì, si erano nuovamente riuniti e avevano riniziato nuovamente ad esibirsi. Eh, ci sono state parecchie, o i Depeche Mode. Ah, i Depeche Mode, sono una bella band elettronica degli anni Ottanta, insomma, hanno fatto l'ultima loro canzone, l'ultima nata, l'hanno cantata al Festival di Sanremo nell'ultima edizione. Eh, ma non l'ultima canzone, perché hanno fatto un album intero. Sì, hanno fatto un album intero, sì, sì. Si vede che sei proprio un appassionato dei Depeche Mode. No, no, non sono un appassionato, però, siccome ho un amico che invece è appassionato proprio qua, e quindi mi ha cominciato a interessare anche un po' di più alla musica dei Depeche Mode, e tra l'altro quest'anno, qua in Polonia, hanno fatto un bel po' di concerti. Tutti a Varsavia, perché comunque ancora riempiono lo stadio, però, appunto, un bel po' di concerti, e quindi tutte queste band, anni 80, 90, che facevano, appunto, un po' musica elettronica, e poi via via ad andare verso rock, hard rock, metal, heavy metal, queste band riescono ancora a prendere, a prendere pubblico, qua. Quindi anche tra i giovani, sono gruppi che prendono generazioni in maniera trasversale, a questo punto di grado, lì. Sì, 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 molto trasversale. Cioè, diciamo che dal punto di vista musicale è un bel ambiente, pensando magari, forse io penso troppo con la mente di noi che siamo cresciuti negli anni 80 e 90. Noi pensiamo che quella musica è quasi ripetibile. Forse la migliore, esatto. Forse la migliore, però siamo coinvolti in maniera diretta, proprio diretta, quindi non possiamo dirlo. Saranno poi i nostri figli, no, a dire se effettivamente quella era una delle musiche più belle, oppure no. Io cerco di fargliela ascoltare, però... Si vedrà. No, si vedrà. E poi, come dicevi tu, c'è stato un ritorno ai vinili che io non mi aspettavo per niente, però c'è stato questo ritorno e vedo, infatti, ti ho mandato la fotografia di... Si, l'ho vista. ...che lì, appunto, in un negozio, in un negozio di dischi c'erano molti più vinili che CD. Eh... Eh sì, perché è proprio una questione di statistica adesso. Il vinile ha superato il CD e c'è proprio un ritorno al vinile e tra l'altro con prezzi anche abbastanza esorbitanti e non... C'è costa comprare il vinile. Non è così accessibile. Cioè, un CD costa molto meno rispetto a un vinile. Senti, Alessandro, abbiamo divagato, potremmo parlare ancora di musica, di gruppi, potremmo parlare, che ti posso dire, tornando agli anni Ottanta degli AA, immagino che lì saranno forse venuti a fare qualche concerto piuttosto che... gli AA è da un anno che ci sono in giro. È una cosa impressionante. Eh, guarda, io ti dico che mi piacerebbe tantissimo assistere a un concerto degli AA. Probabilmente forse sono fra i cantanti che mi sono rimasti più nella... anche nella memoria, a parte come piacere delle loro canzoni e non sono mai riuscito a... a... a sapere di un concetto non ti dico in zona, ma qua in Italia. non è mai saputo degli AA. Così come, per esempio, eh... il duo di musica elettronica nato negli anni Ottanta... Rockset. Eh, no? Questi sono inglesi. Patch of Boys. I Patch of Boys, vedi che ci arrivi. No. I Patch of Boys erano andati il... un 31 luglio al Comics di Lucca e in quell'occasione non l'ho saputo per tempo e ho perso secondo me uno dei concerti che mi... avrei avuto il piacere di ascoltare e di vedere forse fra i maggiori in assoluto, ecco. No, eh... sì, i Patch of Boys sì, mi sarebbero interessati anche parecchio, mi piacevano molto in quegli anni. Qui per esempio vedi una delle pecche come dici tu, no? La lunghezza dell'Italia, cioè questi cantanti, questi concerti qui non vengono fatti. In Sicilia almeno non conosco, a mia memoria non conosco un concerto di questi gruppi famosi o cantanti famosi stranieri. Eh... purtroppo le sedi sono sempre, no? Roma, Milano, Roma, Milano, qualche volta Torino, insomma, ma... da qua siamo tagliati fuori. Da siamo tagliati fuori, è un peccato. Purtroppo, sì. Va bene Alessandro, ci salutiamo e ci risentiremo immagino fra qualche giorno, fra qualche settimana e tirando fuori dal cilindro come tu fai ormai ogni volta uno degli argomenti che può essere interessante per farci scoprire il mondo della Polonia e dintorni. O magari qualche volta potrebbe arrivare qualcuno da... Eh, chi lo sa, noi lo incendiamo questo discorso. Qualche brolese da qualche altro Stato all'estero. Esatto. Speriamo, speriamo, vediamo, vediamo che riusciamo a fare. Speriamo, speriamo. Intanto, grazie Alessandro e ci salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao e grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.